E' con noi Giuseppe Ungari, vice direttore dell'Ufficio per i Migranti, con lui parliamo della giornata del Migrante e del Rifugiato, una giornata importante che si celebra domenica 26 settembre, una giornata per ricordarci del tema, il tema dei migranti e dei rifugiati che spesso passa nei nostri giornali, passa nelle nostre informazioni solo quando c'è qualcosa di emergenziale, invece è un tema che va affrontato lungo tutto l'anno. La giornata però ci permette di focalizzare un tema per un noi più grande, è il tema di quest'anno. Domenica 26 settembre celebreremo appunto questa giornata con il titolo pensato da Papa Francesco Verso un noi sempre più grande, è appunto l'invito per utilizzare le parole del Papa stesso a prendersi cura della famiglia umana e a ristaurare la famiglia umana. In queste parole del Papa vedo la consapevolezza del fatto che viviamo un momento non facile, che merita attenzione, merita la preoccupazione di questa cura, ma al tempo stesso c'è anche la consapevolezza del fatto che ce ne si può prendere cura se ci mettiamo tutti insieme a farlo. E più che il tutti il Papa sottolinea l'importanza dell'insieme, cioè di questa collaborazione, l'ha detto in vari modi, in varie forme, del trovarci sulla stessa barca e soprattutto del condividere anche con chi viene da culture altre, da storie, da provenienze diverse, la cura per questa nostra società che è sempre più multietnica, sempre più universale. Per la Chiesa questo dovrebbe essere particolarmente facile, o se non facile, particolarmente a cuore dovrebbe stare, essendo proprio nelle corde della Chiesa il vivere l'unità attraverso la molteplicità delle differenze. Verso noi sempre più grande è questo il tema che verrà anche sviscerato da un incontro, un incontro online? Lunedì 20 alle 20 e 30, attraverso i canali social di Chiremba Area per la Mondialità, verrà presentato il messaggio del Papa per la diciassettesima giornata mondiale del migrante e del rifugiato. Verrà presentato da padre Bentoglio, scalabrignano esperto in storia delle migrazioni e autore del libro Sbarchi in Calabria, tema apparentemente lontano rispetto al nostro vissuto, ma occasione per vedere in realtà cosa sta dietro al fenomeno delle migrazioni. Quasi fortunatamente possiamo dire che c'è un'attenzione maggiore in queste settimane alla comprensione di ciò che sta dietro ad alcune storie. La questione dell'Afghanistan ci ha resi più attenti, più sensibili, più desiderosi di capire e anche più accoglienti. Al di là della questione Afghanistan, perdura il processo migratorio di molte persone delle quali poco conosciamo e quindi il tema apparentemente lontano che ci riferisce di Sbarchi e della Calabria in realtà ci vuole indurre ad avere uno sguardo attento alle storie che procedono i viaggi e le migrazioni di molti. A proposito di storie di vita, c'è un bel documentario realizzato dagli studenti del Dams, dell'Università Cattolica di Brescia, un documentario che racconta le storie delle seconde generazioni e quindi è un racconto della vita concreta delle nostre comunità e sarà l'oggetto del secondo appuntamento. Sì, venerdì 24 settembre alle ore 17.30 presso il Teatro Sant'Affra con ingresso gratuito, è necessario solo presentarsi con il Green Pass, sarà possibile assistere alla presentazione di questo documentario realizzato dagli studenti della Cattolica del Dams. Verrà presentato l'incontro grazie a Diego Motta, che è responsabile delle pagine di attualità e di avvenire e verrà raccontata la storia di questi ragazzi di seconda generazione che attraverso delle interviste mostreranno il senso del loro essere cittadini di seconda o di nuova generazione a Brescia. Vengono toccati degli aspetti nodali, come il sentirsi parte di una comunità a Brescia e al tempo stesso percepire di avere delle radici lontane, l'essere parte di famiglie multietniche e tante volte multireligiose e lo sguardo che sentono su di sé da parte dei cittadini bresciani, sguardo benevolo molte volte, sguardo con qualche criticità e qualche difficoltà altre. Documentario che apre la serata, film invece all'interno di Afrobricks che la chiude questa serata. Sì, una prima, The Rock, verrà presentato sempre con ingresso gratuito al Teatro Sant'Affra alle ore 20.45. Invece la giornata, nel giorno giusto, quindi il 26 settembre, la Santa Messa in Cattedrale delle ore 10 di domenica 26 sarà preseduta dal Vescovo e saranno presenti anche le comunità cattoliche migranti. Saranno presenti e saranno soprattutto gli animatori di questa celebrazione che vedrà protagonista le comunità cattoliche migranti e che darà il senso di quello che noi immaginiamo possa essere la comunità ecclesiale bresciana. L'insieme delle differenze che condividono attorno alla parola e all'Eucaristia l'unico credo.